E' il momento di far entrare un'ospite deliziosa che ha segnato la nostra infanzia, nonché la televisione, il musical, anche diciamo le cronache, perché è stata la compagna di un grandissimo campione italiano. Io, per me, lei resta Heidi. Eccola qui. Eccola qui. Per tutto il mondo è Elisabetta Viviani. La 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 la. Ciao. Hai danzato tanto su questa canzone, sentiamola. Ho danzato tutta la vita. Musica bellissima, Mai Far Lady, film indimenticabile, piqui malione. Aspetta che mi tolgo un attimo gli occhiali. No, non ci vedo. Che carina che sei. Sei così carina con l'occhiale tondo. Grazie. E sono gli occhiali di Renato Zero, li mette anche lui così rotondi. Ma sono proprio i suoi? No, no. Magari. Oh, non lo so. Magari siete amici e te l'avevi regalati. Mi te l'avevo in cassaforte. Ma mi siete mai conosciuti con Zero? Eh sì, ci siamo conosciuti tanti tanti anni fa alla RCA, quando io ho inciso Heidi. E lui era lì, sembrava, non lo so, sembrava Dracula il vampiro. Aveva questi capelli così. Io sono affascinatissima da Dracula, quindi... E avevo questo mantello... Sei affascinatissima da Dracula? Mi piace tantissimo Dracula. Aspetta, scusa, sei entrata a te e hai detto tre cose. Dai, via Dracula! Siamo partiti altissimo livello. Allora, scusami, sei affascinata. Perché da Dracula sei affascinata? Perché è un personaggio che mi ha sempre affascinato. Io ho sempre guardato tutti i film che parlano di Dracula. Ma che cosa ti affascina? Il mantello nero, il fatto che... Tutte le donne sono sempre state innamorate di Dracula. Ma anche no! L'hai visto Dracula di Bram Stoker? Sì, lui chi è? C'è Brad Pitt, no? Chi c'è? Gary Oldman? No, no, Brad Pitt, no. Vabbè, comunque... Però pure io ho letto... Anche io sono sempre stata affascinata dai personaggi, dai antagonisti in qualche maniera, Serena. È affascinante come personaggio. Va bene, sì. Allora, se no, per carità non lo sposerei. Torniamo a Mai Parleidi. Quindi, perché c'era una volta una bambina milanese con una mamma che amava anche lei il musical, no? Lei amava tutto quello che era spettacolo. Quindi lei mi ha spinto sin dal primo giorno di vita proprio a esibirmi. Guardate che belle! Eccola lì la mia mamma. Perché Elisabetta, che sembra una quarantenne, possiamo dire quanti anni hai? Sessant'otto. No, ma che stai dicendo? Li ho compiuti, li ho compiuti. C'era anche un applauso che battiva. Certo. Bravi. 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 Mi è piaciuto. Complimenti. No, dai. No, è vero, se vuoi ti faccio vedere la carta. No, perché si vedeva da quella foto in bianco-nero che era una foto di un po' di tempo fa. Comunque, chapeau. Torniamo a questa casa milanese dove tua mamma proiettava i suoi sogni su di te in qualche modo. Ha bisogno su di me, però ha trovato una facile presa, diciamo, perché io adoravo il cinema. Quindi con mio papà andavo tutte le domeniche al cinema e guardavo un film, non una ma tre volte, perché allora si poteva stare al cinema e rivedere i film continuamente, no? Bastava non uscire. Anche perché tu, in realtà, tua mamma aveva avuto un altro matrimonio o altri due, non mi ricordo. Mia mamma si è sposata tre volte. Tre volte, vedi. Il primo marito era un pilota. Lina, siciliana, di origine siciliana. Lina, no, è milanese, però di origine siciliana. La nonna era siciliana, siciliana bionda. Il primo marito era un pilota. Il primo marito era un pilota, il secondo marito un discografico, grosso discografico, e il terzo marito il mio papà. Poi all'epoca non c'era il divorzio? Sì, ma è complicato, se vuoi ti racconto tutta la storia. No, vabbè, ma è proprio pura curiosità. Cioè, mia mamma è stata per parecchi anni in causa di divorzio col secondo marito e poi si è potuta sposare solo quando io avevo vent'anni. Va bene, però insomma, diciamo, mamma Lina era una donna, diciamo, all'avanguardia, libera, comunque. Negli anni 50. Non era così frequente. Certo, quando sono nata io, lei era una donna divorziata, non ancora divorziata, in attesa di divorzio, perché il divorzio è arrivato nel 73. Esatto. E quindi erano compagni. E quindi che tipo di educazione ti ha dato? Ma mia mamma era molto diretta, se io le facevo una domanda, tipo, quelle domande tremende che fanno i bambini, come nascono i bambini, lei era molto diretta, mi diceva le cose proprio. Sì. E la stessa cosa ho fatto io con mia figlia. Allora, poi, diciamo, passione per la musica, passione del mondo dello spettacolo, un giorno arrivi in Rai, la vediamo. Ah sì, bello quel giorno. C'è una cosa che me la rende molto cara, eh? Permetti, Elisabetta? Anche perché io ho duemila anni più di te. Eeeh! Beh, insomma, ecco, volevo sentire eeeh! Ecco, mi riempi di gioia. C'è una cosa che me la rende molto cara, e non vi posso dire perché. Comunque guardatela leggermente di profilo. Guarda. È un gran po'... No, no, la somiglia al mio, magari, su, è bellissimo, fa vedere. Leggermente. Comunque porta di un buono che non vi dico. Vanno orgoglioso perché è bellissimo. Atturo, insomma, ti vuoi svegliare? Lo sai che ore sono? Ah, ma tu per sapere che ore sono, devi svegliare me o... Un poliziotto che si rispetti, deve alzarsi presto. A me non mi rispetta nessuno. Arturo, abbia almeno rispetto di te stesso. Io non mi rispetto, anzi io mi insulto. Eh sì, dammelo a specchio. Ti, e se sei, Arturo, si, tu, pur caccio, va a dormi. Macario, quindi passi questo, avevi fatto delle pubblicità e passi questo provino. Cosa ti ricordi dell'ingresso del Magico Mondo Televisivo? Allora, no, io avevo fatto l'Accademia dei Filodrammatici di Milano e ho fatto teatro. Dal teatro sono stata scelta per fare Nononanetto Davito Molinari, grande regista. e mi ha scelta in mezzo a tantissime ragazze aspiranti e quindi da lì sono passata protagonista sabato sera su Rai 1. E com'è cambiata la tua vita? Totalmente. Avevi ventenne praticamente. Avevo diciott'anni. Il successo come ti ha trovata e come ti ha trasformata se ti ha trasformata? Allora, è stata una botta come dall'oggi al domani, cioè il primo giorno è stato come niente, non è successo niente. Il lunedì hanno incominciato a telefonare tutti i giornalisti del mondo. Perché la domenica. La domenica era tutto silenzio, nessuno telefonava, ho detto ma non l'avrà vista nessuno. Invece lunedì si è scatenato il mondo, copertine di giornali, tutto questo. Insomma, dall'oggi al domani sono diventata famosa. Elisabetta. Allora si diventava famosi dall'oggi al domani. Eh, pure oggi. Non è che è tanto diverso. Senti che coro. Senti che coro. È faticoso. Allora, vorrei sapere su quanti di voi la colonna sonora di Heidi ha inciso. Io ho il vinile a casa, è sul retro, Elisabetta è identica, solo con i capelli un po' più corti che si mette un fiore in testa. Identica, è troppo giovane. Io ti ringrazio molto, ma è identica. Sono cresciuta guardando il cartone, ero pazza. Ma sei tu piccola di noi. Un'antichia sì, però. Un'antichia, c'hai 30 anni, se non 51. Una volta una piccola pure Carolina. No, però fanno ancora in televisione in realtà. Sì, non fanno in televisione. Perché tu il primo cartone animato della storia della televisione dell'infanzia. No, è stato il primo giapponese. Il primo giapponese, sì, insomma, televisivo. E come sei arrivata a cantare questa colonna sonora? Allora, io facevo parte di una piccola casa discografica e mi hanno comprato, da lì mi ha comprato la RCA. La RCA, poi il Franco Migliacci mi ha chiamato un giorno, ha detto... Ma ce la fai sentire? Sì. Ma ce la fai sentire, ti prego, io voglio cantare Heidi. Se io sento le caprette ti fanno ciao, è impazzissimo. Sì, peraltro è un testo veramente un po' lsd. È un testo audace. Possiamo fare il coro, io già. Dai, andiamo, andiamo. Possiamo avere questo onore. Allora avevo 18 anni, quando l'ho cantata avevo 21 anni. E ora c'hai 23, vieni. Dai, 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 dai. Ti prego. Non è cambiata. Facciamo il coro? Io mi porto la bambolina, tipo... No, non è che ho permesso, perché siamo veramente... Volete fare una... Fate le caprette, dai. Fate le caprette, dai. Ti prego, con la voce. Ti sorrido di Monti, un testo... Eh, per me è un testo particolare. Certo. Ti sorrido di Monti. Eh, di questo per me. Ai di, ti sorrido di Monti. Ci ha segnato. Esatto. Qua, due, voi. Ai di, ai di, il tuo nido è sui monti. Ai di, ai di, eri triste laggiù in città. Ah, ci piglia, qui c'è un mondo fantastico. Ai di, ai di, candido con il mondo. Come te. Ai di, ai di, tenera, piccola, con un cuore così. Ti prego, ricominciamo. Non ti prego. Ti prego, ricominciamo. Un altro giro, ti prego. Non posso vivere, dai. Amici di Monti. Ti prego, ti prego. Ai di, ai di, ti prego. Ancora. Così, ti prego. Ai di, ai di, ti sei le... Ai di, ai di, le caprette ti fanno ciao. Neve bianca, sembra latte di nuvola. Ai di, ai di, tutto appartiene a te. Ai di, ai di, ai di, tenera, piccola, con un cuore così. E'テipaneous. Evviva, evviva. Tonalità proprio all'eterno. E' tam posso garantirti che io Serena così felice non l'ho mai. Non è mai troppo tardi per un'infanzia felice. Mi hai fatto tornare bambina. E per me è stato momento di sogno. Qual è il segreto di questo cartone? Cioè, come pare si storia? Bravissima, ma così, perché poi si vuole, se ci pensi, è vero, perché tutte le fiabbe hanno un elemento di cattiveria. Hanno un elemento di cattiveria. Cioè, le favole, quelle storiche, dei frati Grimm, c'è il lupo e il lupo. Ci sono comunque, ci serve l'orrore per poter apprezzare il sogno. Ci sono i tulipani bianchi e i tulipani rossi, quindi... Peraltro Lai aveva anche questa cosa molto bella, perché nel cartone animato c'è una Clara, la ragazzina che vive a Francoforte con la signorina Rottermeier, alla quale io, diciamo, sento di appartenere. Perché? Perché mia madre, quando parlo con i miei nipoti, mi dice, ecco, l'è arrivata, signorina Rottermeier. Signorina Rottermeier, l'archetipo della governante a Ciglia, però ha un elemento di controllo, con questo capello tirato su, è molto... Barbara Alberti mora. Barbara Alberti mora, non so se sarebbe contenta. Sì, è vero, però... Barbara Alberti sarebbe buonorata, perché si parla buonata la signorina Rottermeier. E Clara è su una sedia a rotelle, quindi è la prima volta che, forse è la prima volta che in un cartone animato c'è una bambina che ha appunto una disabilità. E a questo proposito vorrei collegarmi con Giacomo Mazzariol, che è l'autore del libro, che sarà oggetto di un film che stasera manderebbe a non dare ai uno, che vi invito a vedere tutti. Il film si intitola Mio fratello rincore dinosauri, il protagonista Alessandro Gasman. E quindi Giacomo, mi fa piacere utilizzare questo spazio per salutarti e per dirci che tipo di messaggio lanciate con questo film, che in realtà è la storia tua e di tuo fratello. Eh sì, grazie Serena per l'invito. Sono molto contento di parlare di questo film, che poi è un'opera collettiva. E la mia storia è una storia, sì, di coraggio, di vergogna, di che cosa vuol dire essere un fratello ed entrare a contatto con la diversità. E quindi in questo film cerco di parlare di questo, proponendo anche delle soluzioni. grazie all'attore che impersonifica a me, che è Francesco Gheghi, che è una promessa, come anche poi lo sono tutti gli altri attori e attrici che hanno fatto parte di questo film, anche quelli meno conosciuti di Gasman e di Ragonese, che sono stati fantastici. E devo dire che ho trovato una collaborazione fantastica con il regista, che ha preso il mio libro e ha trasmesso tutto il drama e l'ironia, che è Stefano Cipani. Ci salutaci tanto, tuo fratello Giovanni, come è cambiato il vostro rapporto dopo il successo del libro e del film? Il successo non ci ha cambiato, perché ci ha, anzi, ci ha, come dire, dato un rapporto diverso, perché io mi sono trasferito a Roma per poi seguire il film e anche altri progetti. Ma nonostante questo siamo comunque complici, come lo siamo sempre stati. Grazie davvero Giacomo, vedetevi stasera, mio fratello rincorre dinosauri con Alessandro Gasman e abbiamo mandato prima un'altra troupe con un'altra clip dove c'era in realtà Macario, il tuo debutto ce lo godiamo ora, che era non Anette, non era un altro clip sbagliato. Vediamo. Io con te e tu con me, stretti, stretti, vuoi un te, io provo un'emozione nuova in cuore. Nessuno vicino che possa ascoltarci, amici o parenti a disturbarci, felici saremo, vivremo il nostro amore. Quando il giorno risorgerà sul tuo cuore, mi troverà nessuno così, ci troverà ogni dia. Diventi famosissima. Che bei tempi. Che bei tempi, li rimpiangi? No, è stata un'esperienza talmente bella lavorare tutto il periodo in che ho passato in Rai, non lo dico perché sono qui, ma perché veramente io sono stata bene in Rai, ho lavorato benissimo con lui. E poi il mio Claudietto Lippi. Comunque è identica d'oggi. Sì, sì, è pazzesca. No, beh, non ho neanche più quel naso perché l'ho rifatto il naso. Ah, l'hai rifatto il naso? L'ho rifatto a 20 anni, a 22 anni. Dopo che ho fatto non ho una netta, ho rifatto, era il sogno della mia vita. E l'avevo giusto a realizzarlo. Elisabetta, poi conosci quello che era il tuo grande mito d'infanzia, che poi sarà l'uomo che ti ha dato una figlia, Nicole, che è Gianni Rivera. Sì, Gianni Rivera. Come avviene il vostro incontro se te stai insieme poi sette anni? Allora, ci siamo conosciuti grazie a un... C'era un grande fotografo della Journal Photo, che era il fotografo ufficiale della RAI, che mi ha chiamato un giorno dicendomi se volevo fare come Subretta. Allora ci chiamavano Subretta. Un servizio fotografico per la copertina di Sorrisi e Canzoni con una squadra di calcio. Siccome il mio papà era un patito del Milan, io ho detto col Milan. Ma avevo già in mente, perché Rivera mi piaceva già da quando avevo 15 anni. Perché Elisabetta, haidi, haidi, però, diciamo, è l'avo Dragula che è uscito fuori. Cioè, io ero innamorata di Gianni già da quando avevo 15 anni, perché proprio... e quindi l'ho detto così conoscerò Gianni Rivera. Invece Gianni si è rifiutato di fare questo servizio fotografico perché non voleva che il Milan venisse coinvolto con gente della televisione. e così... però mi chiamò un mese dopo. Un mese? Si fece dare il mio numero di telefono, ha parlato con mia madre, ha detto Elisabetta, Elisabetta è in Rai che lavora, dice, l'ho richiamato io, mi fa, vuoi venire fuori con me? Sì, va bene. Ho detto sì, sono rimasta così. È stato un sogno, un altro sogno che si è realizzato. Ma poi come vi siete... Cioè, siete usciti insieme e poi... Siamo usciti insieme e mi ha portato a fare un giro in tangenziale. E lì ci sono, mi sono innamorata tantissimo. L'ultimo di sua tangenziale di Milano. Giuro, non lo so perché... Come un gatto in tangenziale. Ho fatto un giro. Era una bella macchina, almeno. No, allora aveva... Aveva una cento... Io non... Guarda, sono una scarpa per le... Io, Gianni Rivera, sono utilitaria sulla tangenziale di Milano. Cioè, proprio il titolo di un film romantico. Non siamo andati a cena fuori. Abbiamo fatto solo questo giro. Che è durato quanto? È durato un'oretta, un'oretta e mezzo. Un'ora di giri in tangenziale. E di che parlavate sulla tangenziale? Ci siamo conosciuti, conosciuti così. E poi da lì... Lui chiaramente ha tentato subito perché... L'approccio. Ha tentato subito così. Gli ho detto no, io è la prima volta, non potrei mai. Allora da lì ha incominciato a corteggiarmi sul serio. Io mi invitavo a cena. Quindi ha capito che eri, tra virgolette, una brava ragazza. Che non ero una da una botta e via. E la storia è durata per sette anni. Eravamo anche negli anni settanta. È durata per sette anni. È stato il tuo più grande amore? È stato, diciamo, un uomo importantissimo. È stato un grande amore per me. Per lui spero di essere stato un amore. Ma vi sentite? No. E con vostra figlia come funziona? Beh, Nicola ha 44 anni. Fa l'avvocato ed è sposata. Però comunque è sempre il padre di tua figlia. Sì, sì, sì. No, io non... Con lei si sentono? Questo domandalo a Nicole. Non voglio rispondere a questa domanda. Va bene, certo. Ci sono affari di Nicole. Va bene. Dato che lei... Io no, non lo sento più. Ma per scelta tua, per scelta sua? No, per scelta sua, non mia. Io sono sempre stata in buoni rapporti con i miei ex fidanzati, sempre. Con lui no. E come, vabbè, ma con lì com'è finita, se posso permettermi? È finita perché, sai, sono passati anche 45 anni e non mi ricordo benissimo. Forse hai anche un po' rimosso Elisabetta, perché succede anche uno. E' finita perché un po' allora la differenza di età si vedeva, dieci anni si sentiva, perché lui frequentava anche persone molto più grandi di lui, quindi moltissimo più grandi di me. Io avevo vent'anni, lui trenta. Quindi, si sentiva molto perché lui aveva un modo di divertirsi diverso, cioè a me piaceva ancora andare in discoteca, mi piacevano i giochi sulla spiaggia con i miei amici, insomma. Non avevamo molte cose in comune, abbiamo scoperto poi col tempo... Quindi è stata comunque una separazione, tra virgolette, serena, questo vuoi dirmi. Sì, non è stata una cosa... Se lo incontrassi oggi cosa gli diresti? Ciao. E poi? Basta. Sentirei cosa da dirmi lui. Perché secondo te ha delle cose da dirti ancora? No, non credo. Hai delle domande da fargli? Sì, avrei delle domande ma non voglio dirti quale. Va bene, le intuiamo e rispettiamo il tuo riservo perché abbiamo capito tutto Elisabetta. Sì, ok. Ti auguriamo davvero buon vento, come dico sempre io. Grazie, grazie. Cioè qualcosa di Heidi che è rimasto in te o che avevi in te, un po' di quello dello stupore di questa bimba che dalla montagna va in città e comunque è una bimba buona. Io non ho mai perso questo stupore ed è una cosa che vorrei ribadire con una canzone che ho inciso pochi anni fa e che si intitola Le donne della mia età e che riguarda proprio le donne che dicono ormai alla mia età... Per carità, non si dice mai. Ormai. Io no, in questo disco proprio ho ribadito questa cosa. Bravissima. Cosa che vuoi fare alla tua età adesso? Ma io faccio tante cose, tantissime. Ho finito da poco di fare la soccorritrice in croce bianca. Adesso non lo so, adesso vorrei fare anche, vorrei continuare, adesso sto incidendo un nuovo disco per le mie canzoni del passato, compresa Heidi, Inversione Banda. Quando esce Inversione? Banda, è un'idea del mio produttore Claudio Damiani. Ma portiamola in discoteca. Io voglio Heidi Inversione. È fatta proprio da una banda. Invece io la vorrei tipo a far l'amore comincia tu, così la vorrei. Beh, quella in versione così discoteca ci stiamo pensando. Eh, vi prego fatela perché vi assicuro che... Sarebbe un successo, noi sappiamo noi, in alcuni locali. Ogni tanto nelle discoteche un po' chic... Ah, poi ho fatto anche una versione in tedesco. Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, denn da drüben bist du zu haus. E su questo... Che meraviglia. Noi ti vogliamo bene, torna col disco, ti ringraziamo.